Non mi salutare Marino, sediti e non mi salutare. Allora, diciamo che sono rimasta piacevolmente sorpresa da tutto quello che sono riuscita a vedere in questa settimana fuori da questa casa. Sono senza parole perché questo è un gioco, ho accettato di giocare anch'io, ma credo che anche in un gioco bisogna mantenere sempre i propri principi e essere leali. Tu sei una persona schifosa, dire che proprio mi fai schifo è dire poco forse, sarebbe diminutivo. Sei riuscito a fare credere a tutta la casa che non sei stata tu a nominarmi? Hai fatto ricadere tutto l'odio che tutte queste persone hanno provato per Aida perché è stata colpa tua, perché c'è stata la mia nomination, perché dalla clip che abbiamo visto anche adesso hai continuato a dare colpi ad Aida che Aida non aveva. Quindi sei una persona veramente schifosa, dai del falso a Luigi e a Veronica e che cosa fai? La prima falsa, la prima giocatrice, la prima manipolatrice sei tu, ma con che coraggio, con che faccia? Con che faccia hai fatto tutto questo, devo capire? Grazie. 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 Grazie.